Il problema della scelta è un problema di condizionamenti, quindi di situazioni pregresse. Da un lato i giovani erano stati educati in una scuola, in una pedagogia di regime. Dall'altro risentivano di una duplice influenza, quella di natura familiare e quella di carattere amicale. L'armistizio portò uno sconvolgimento generale anche di tipo culturale e con la dissoluzione dell'esercito furono i bandi di Graziani a imporre una decisione. Una figura che a me pare molto interessante è quella di Teresio Livelli. È rilevante, a mio avviso, la situazione dello scarto nella sua esistenza. Lui era profondamente cattolico e fascista. L'Italia era quella della conciliazione. Fu littore della rassa nel 1939 e nel 1941 volontario in guerra per la campagna di Russia che veniva percepita e proiettata come una crociata di tipo religioso, ancora prima che politico e militare. Poi si rese conto, lui come anche molti altri della sua generazione, lui tra l'altro era uno dei più, virgolette, anziani, del terribile blef del fascismo che per vent'anni preparò la guerra e portò l'Italia senza preparazione allo sfacelo. E quindi dopo l'armistizio fu tra i primi a preparare la resistenza cattolica delle fiamme verdi e poi appunto morirà nel lager di Hesbruck. E allora in questi scarti, in questi dislivelli, vediamo quello che secondo me è un tratto che ancora oggi può essere, non dico consolatorio, ma molto significativo. Cioè il fatto che giovani come olivelli, creati dal punto di vista ideologico in questa fucina clerico-fascista, poi divengono dei, virgolette, ribelli per amore, dimostra che in fondo le dittature non erano poi così perfette come si percepivano. Ci fu naturalmente chi maturò scelte diverse da quelle della ribellione e della resistenza. Prendiamo il caso di Giorgio Albertazzi, era nato a Fiesole nel 1923, una famiglia patriottica nazionalista e lui personalmente fu segnato da un dramma familiare. Aveva uno zio, ex squadrista, che all'indomani del 25 luglio 1943 venne pestato dagli antifascisti come ritorsione, come vendetta. Ebbene, il ricordo di questo zio, che poi credo anche venne addirittura a morire per il seguito di queste percosse, lo spinse ad aderire volontario alla Repubblica Sociale Italiana e ad arruolarsi nella legione tagliamento, poi ebbe delle varie vicissitudini che lo porteranno anche ad una condanna poi amnistiata nel secondo dopoguerra. Per cui il suo è un tragitto che direi appare assolutamente lineare, in una dimensione cosiddetta patriottica, fedeltà, onore, con l'alleato tedesco. E nella sua esperienza è molto importante questo elemento, direi del mito teutonico. Una figura emblematica dei possibili e diversi sbocchi dopo l'armistizio è quella di un giovane novarese, Angelo del Bocca, che aveva 18 anni al momento appunto dell'autunno del 43 e che in un primo momento si collocò in una zona, la cosiddetta zona grigia, cioè si appartò. E poi avvenne che la sua classe fu chiamata alle armi dai bandi graziani. Lui non volle presentarsi, ma venne preso suo padre come ostaggio in base alle previsioni delle leggi della Repubblica Sociale Italiana. E a quel punto per far liberare il padre dalla prigione si presentò. Venne arruolato in questo modo, che è un modo molto tipico, e mandato ad addestrarsi in Germania nell'estate del 44. E poi ritornò con la divisione Monterosa, si rese conto dell'assurdità dal suo punto di vista, di questa guerra che non sentiva e passò con i partigiani. E continuò a tenere le note diaristiche che sono state pubblicate circa 3-4 anni fa da Mondadori, col titolo Nella notte ci guidano le stelle. A mio avviso è un documento straordinario, perché per la prima parte è scritto dalla prospettiva di chi combatte nell'RSI, e nella seconda parte è scritto da chi è diventato un ribelle consapevole e rischia la vita appunto per quel senso di libertà che ha apprezzato e che ha conquistato giorno dopo giorno. Ci fu un aspetto che a mio avviso è rimasto sotto traccia e sottovalutato da parte degli storici, cioè la renitenza. Vale a dire, può essere una forma di non scelta temporanea, andare a nascondersi in attesa dell'evoluzione dei tempi, e poi dalla renitenza si passa alla resistenza. Dei 20 mesi compresi tra l'autunno 43 e la primavera 45, in stagioni diverse della vita politica, culturale italiana, gli storici hanno dato diverse rappresentazioni. Negli anni 60 in modo particolare quelle di valorizzare la resistenza, forse anche, anzi senza forse, in modo eccessivamente retorico, e poi a partire dall'analisi di Renzo De Felice, l'attenzione si è riversata sulla cosiddetta zona grigia, un termine che ha avuto un notevole successo. Per dire quella società indifferenziata che stava alla finestra, che si faceva gli affari propri, che non voleva rischiare e che puntava a vivere e a sopravvivere. Ecco, è un termine generico, a mio avviso bisognerebbe calarlo nel contesto dell'epoca, perché ci sono state diverse fasi. La zona grigia a volte si riduce, a volte si rigonfia. Quindi è un termine che può essere utile, ma può anche essere forviante, perché può velarci una realtà che a mio avviso era molto più composita e interessante di quanto non è stata sino rappresentata dagli storici. Grazie a tutti.